Buongiorno a tutti amici di Sweet Tomannesa, quei vestiti lì, sono la mia prima eliminazione da questo decluttering un po' perché non mi stanno, un po' perché ho deciso di provare proprio tutta la roba che ho in casa e già ne ho messa anche altra nella busta di là che regalerò alla mia amica fotografa e altra che andrà nel bidone dei vestiti che verranno donati alla croce bianca niente, ho iniziato questo nuovo decluttering dicendo che tanto stavolta da declatterare della roba ce ne sarebbe stata poca invece mi rendo conto che in un anno di questa roba ne ho parecchia da smistare, insomma da capire quello che ci voglio fare perché mi rendo conto che in un anno parecchie cose non le ho messe, non le ho neanche considerate ed è inutile che rimangono lì quindi inizio questa mia nuova avventura vi faccio vedere intanto il pezzo del mobile che ho già messo a posto e che sono molto soddisfatta e che anche da lì sono andate via un sacco di cose insomma già quelle e altre cose comunque per chi mi segue sa che sto diminuendo veramente la roba ecco mi si piange il cuore però queste fanno il ricordo di quando ne roppi il piede e ora sono andate e queste vengono dall'Egitto che si sono gotte queste non posso buttarle o no mi china però queste si queste le punto mi sono proprio presa del tempo perché voglio veramente provare le cose vedere come mi stanno alcune mi stringono alcune mi rendo conto che non le metterò mai più e quindi ho deciso di ricominciare di nuovo questo percorso oddio si vede che sono stanchina comunque ho fatto tardi stanotte però per tornare a noi iniziare di nuovo questo percorso per vedere di eliminare il più possibile perché non è che voglio ricomprare altra roba ma perché voglio che la roba che ho quando arrivo so quello che ho e so quello che mi sta bene e so che cosa posso mettere già anche solo con l'idea di una serata o di qualcosa dico voglio mettere quel particolare ho ricominciato di nuovo a parte questo angolino che ho già sistemato il resto è tutto un gran casino come potete vedere e dovrà sparire addio come sono logorate la sotto dunque queste via per chi mi ha seguito finora nel mio canale questo lo spazio l'ho dedicato a Claudio e questo qua su devo togliere le ultime cose e questa la pacca è tutta di Claudio ho un sacco pieno di roba da dare alla mia fotografa la mia Antonella Piselli lì ho della roba da sistemare che ancora non so e poi quella è la roba da dare alla mia amica Alessia di Sestino con questa busta qua questa è la roba da dare alla mia amica Aurora che è una ragazzina di 24 anni quindi tutta roba un pochino più fufu e questa è tutta roba da portare alla croce bianca qui ci sono anche un paio di ballerine nuove ma io sinceramente con le ballerine non so neanche perché le ho comprate questo è il risultato tutte le mie giacche quel palo è a rischio e tutti i vestiti e cose che utilizzo poco e qui ho una scatola piena di roba che è in forze che l'ho messa lì e fra un anno vediamo se è da buttare da regalare o da vendere o da smaltire insomma o da riprendere grandi decluttering anche tra le giacche ora devo aggiungere una che devo cuscire sotto la manica una che gli devo riattaccare un bottone una sistemare una tasca e un piumino nero ma già a differenza di cruci non stanno più prestati come prima sono letteralmente felice ho finito di stirare tutta la roba che avevo scelto e lavato e anche quella che ho venduto e anche quella che ho regalato alle mie amiche ma soprattutto la mia e quella di Claudio e tutto quanto e questo video lo concludo qui anche se sinceramente non pensavo neanche di fare un video però pulisci pulisci e facendo questo come si chiama decluttering ho capito che finalmente in tutti gli armaggi pensavo mi ci volesse di più quest'anno invece in tutti gli armaggi che ho e tutti i cassetti ho finalmente la roba giusta che piace a me decluttering non significa avere minimalismo non significa avere tre cose e basta in croce ma per me già ho raggiunto il mio scopo cioè che tutta la roba che ho adesso nell'armadio è tutta roba che mi sta tutta roba che mi piace tutta roba che non voglio buttare perché mi fa provare qualcosa quindi quest'anno sì ho eliminato alcune cose ma erano quelle che non mi stavano più erano quelle che non mi ci vedevo più ma erano poche a confronto del primo decluttering anche se ancora della roba ne ho tantissima e però sono felice così perché è quella che è veramente mia è la mia quella che riesco a sentire mia e niente come tutti i video io vi ringrazio per avermi seguita magari supportarmi in questo canale vorrei che interagissi un po' più mandarmi qualche messaggio così io risponderei volentieri alle vostre messaggi se mi fate delle domande comunque io intanto vi saluto e oddio con le ultime cose da sistemare dentro l'ormaglio che adesso sembra che respira perché anche i vestiti sembra che respirino e io vi chiedo di lasciarmi sempre un like di iscrivervi al canale e di azionare la camponella ciao a tutti subito mannesa decluttering ciao a tutti Grazie a tutti.